eccoci qui all'interno della valigetta abbiamo reperito un fucile ssg1 calibro 45 smontato tutta la valigetta è rinforzata ovviamente nel caso qualcuno cercasse di scassinarla e soprattutto rivestita di un materiale che nel caso lei dovesse passare sotto qualche metal detector non rende rilevabile quello che c'è all'interno quindi risulta come una semplicissima e tranquillissima valigetta ovviamente tutto inserito in un sottovano quindi all'apertura una normale valigia dove lei può infilarci tutto quello che vuole perfetto perfetto lo posso provare sì diciamo che qui magari non so proprio come possiamo metterla logicamente non mi sembra il caso di mettermi a spara qui anche se al coniglio laggiù che insomma ecco potrebbe tranquillamente fatta cavia però vabbè me lo dia poi lo provo io va bene ok ecco qua lei mi scusi ho sbagliato si immagino che dava un attimo il piccio quella l'avevo nascosta in profondità da un attimo il piccio ecco guardi da dove l'ha tirata fuori non voglio sapere quanto in profondità parecchio in profondità per non farla rilevare il metal detector mi scusi capisco capisco detto questo posso ritenere la nostra collaborazione terminata e possiamo passare al pagamento sì 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 quanto vuole perfetto allora sono uno e mezzo per 150 mila un certo come no aggiunga uno zero con miglior 1.500 mila dollari per fucile signora in questa città non è così facile portare dentro un fucile da cecchino è quindi hanno i loro costi di mantenimento se vuole la prossima volta possiamo procurarle una sparachiodi dal brico così 50 dollari che risolviamo il problema vabbè capisco capisco sono uno e mezzo per tutta la situazione fucile per tutto il servizio scorte casa tutto quello che può tornare utile invece 150 quindi le devo un milione 650 mila dollari perfetto può effettuare un bonifico sul codice di conto corrente due aspetti è prego prego faccia senza problemi dico solo una cosa i miei uomini nel mentre ragazzi sbaglio c'era qualcuno di voi che doveva chiudere il perfetto comunque il pagamento l'ho fatto e non penso che potrò soffrire dei vostri servizi molto presto c'è d'ora in poi intendo signore purtroppo l'elite costa no no capisco però guardi ho consentito perché per il lavoro per la caccia che devo fare verrà pagata molto bene quindi forse ci rivedremo presto va bene detto questo le auguro una cosa sembra una da compresa nel prezzo un passaggio al come si chiama dove ritirare la macchina al carai ma certo intanto mi hanno lasciato l'indirizzo di dove andarla a prendere quindi ok la ringrazio ragazzi ragioniamoci davanti all'ingresso e andiamo tutti con una macchina ad accompagnare il cliente purtroppo tutto tutto questo da mantenere ai suoi costi capisco capisco no ma poi servizi si pagano giusto giusto anche perché teniamo un certo standard di qualità piuttosto alto quindi è che semplicemente non ero abituato a a fare un bonifico tanto alto insomma non mi era mai capitato c'è sempre una prima volta nella vita ok ho impostato sul gps la strada eccoci qua ok 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 la ringrazio arrivederci 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 pazza bella allora mo devo trovare qualcuno per rifà soldi come cazzo fai adesso da potta sto parlo allora vediamo quando la posso lasciare qui vediamo se funziona adesso devo solo rimedi ad un'altra macchina c'è nessuno buongiorno buongiorno gente mi scusi c'è mi hanno picchiato mi hanno rapinato cioè guarda mi hanno ridotto uno straccio mi hanno ridotto vabbè vuole fare una denuncia ma ha visto chi chi l'ha picchiato si ma è ancora lì si sta a girare sta a cercare altri da picchiare vabbè vengo un attimo è qua vicino si 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 è lì non so se c'è presente la zona per farle capire lì c'è il centro hollywood per fai film c'è presente si 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 ci ho presente vengo un attimo un attimo che avverto i miei colleghi che sto uscendo ragazzi sto uscendo dalla centrale tipo pelato sono tanti questa città è pieno di pelati si lo so però in senso lo faccio io lo faccio vedere se posso venire con lei chiuso a piedi si si prego vai qua vicino andiamo a piedi o prendiamo un mezzo io mi sono fatto accompagnare da un amico qui bisogna prendere un mezzo va bene va bene andiamo giù un attimo anche se non potrebbe salire su una nostra macchina però a questa cosa ne faccio un'eccezione mi scusi mi metta dietro come se fossi uno arrestato oh non si preoccupi vabbè si è meglio perché magari potrei prendere dei richiami da no vediamo qua sul suv non vedo più ecco io lo metto sul navigatore io la ringrazio così almeno lei è nuovo di città? no io sono arrivato in realtà un po' di giorni fa ah ok poi adesso però sono ritornato sono stato un po' fuori città e sono ritornato oggi capisco capisco è la prima volta che è successo qualcosa perché non ho avuto la fortuna che non è che è successo mai niente è la prima volta che mi rapina sono rimasto sconvolto sono rimasto eh lo capisco capisco non è una bella cosa di sicuro no è perché proprio la violenza ha causato su di me capito? mi vuole assoprare pure eh c'è in giro un po' di criminalità più o meno siamo qua vicini alla zona sì più o meno la zona è questa guardi bene eh ci siamo quasi sì 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 riconosco la zona ok eh lì lì a sinistra a sinistra entri dentro il cancello della della zona film sì ho capito adesso cosa intendeva con la zona olida dove fanno i film sì sì bisogna stare attento perché si potrebbe essere mascherato come so da mascotte da dinosauro eh sì può essere parcheggi parcheggi che proviamo a cercarlo a piedi va bene io sto dietro di lei che ho paura eh sì sì signor agente alzi le mani per cortesia scusi alzi le mani alzi le mani subito 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 ma sia tranquillo allora intanto le prendo la pistola la radio e tutto il resto aspetti eh sì ma non mi faccia del male eh ho famiglia ho anche nuovo no 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 eh chi ok le sembro uno che le vuole fa del male no 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 prendo la rabbia non sai la mia prima volta che vengo puntata a una pistola ho un po' paura ma come lei il poliziotto cioè le dovrebbe sapere queste cose sì sì ma non è sai mai la bello la allora oh mio dio non vedo più niente eh sì l'ho un cappuccio ma è un cappuccio grosso questo sì sì allora adesso ecco venga con me cammini dritto 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 no dritto più a sinistra a sinistra forse la devo un cappuccio dopo eh venga dritto eh sì perché non vedo niente dritto 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 aspetti che la scappuccio non finivo più qui grazie ok oh mio dio ok vada dritto sinistra vede un pick up lo vede un pick up sinistra 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 c'è il pick up lo vede oh scusi agente eh eh niente mi è partito un colpo non si preoccupi ma sfiorato allora salga nel pick up eh sono manettato allora la smanetto un secondo per farla salire eh però ok lo spero che sia tranquillo eh la rimetto subito appena è dentro sì sì guardi allora dica non si preoccupi se fa tutto quello che gli dico io non gli succede niente sì 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 basta stare tranquilli insomma una cosetta veloce sì sì c'è una famiglia ha detto? eh sì è una famiglia sì composta da? eh ho una moglie e un bambino quattro anni ah è piccolo che è yard sì sì dovrei vederlo crescere eh non lo fa diventare orfano ah la ringrazio è nuovo lei come agente? sì sì è da poco essendo che città siamo ancora pochi poliziotti sono già sergente ma mazza ha fatto presto o sarei degrado? cosa? dico ha fatto presto o sarei degrado? eh sì perché ho avuto qualche raccomandazione ma come guida quello? eh sì in città ci sono tante persone un po' pericolose sta insinuando chiuso una di quelle? non lo so non vedo niente ho perso le altre cittadini in città visto che mi ha detto che non devo preoccuparmi mi sono un pochettino più tranquillizzato mazza se convince facile lei eh sì mi fido delle persone lei si deve preoccupare solo e esclusivamente se non fa quello che dico io ma lei farà quello che dico io e quindi il problema non c'è certo 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 c'è da fa qui? andiamo un po' oh mannaggia e lei da cazzo su sto trabicolo molti coglioni allora le piace il vino? a parte da un po' vede in cazzo ci sono sega io in dove sta a portà hai ragione infatti vabbè le piace il vino? sì sì mi piace il vino un bel bicchiere durante il pasti siamo arrivati? scenda sono sceso? sì è sceso è sceso aspetti eh perfetto allora aspetti che le leggo anche i piedi così non si muove perfetto allora io adesso le legherò le legherò la sua radio direttamente al collo attiva quindi potrà parlare sì le spiego le spiego nel dettaglio cosa dovrà fare adesso lei chiamerà i suoi colleghi gli dirà di venire qui gli dirà che è sottotiro perché io la terrò sottotiro lei non saprà da dove logicamente il chiesto tra poco la rincappuccetterò sì quando arrivano gli dice di non avvicinarsi gli dice di collegarsi al canale 97 che è quello suo così ci parlo direttamente io comprende? compreso se lei fa tutto come dico io non succede nulla va bene le darò io il segnale le parlerò direttamente dalla radio sì ok mi sente? sì la sentiamo chi sta parlando salve gente ho un vostro collega in ascolto diciamo che non si trova in una bella situazione con chi sta parlando? con chi sto parlando è irrilevante con chi sta parlando però le basti sapere che un suo collega non si trova in una bella situazione ci stiamo dirigendo sulla chiamata perfetto si può sapere un obiettivo qualche informazione se venite portatevi almeno 600 mila dollari se non venite per niente l'ammazzo direttamente qui però mi pare una cosa esagerata è una vita come? mi pare una cosa esagerata uccidere una persona così direttamente senza un motivo ma questo lo deciderò io quando vi presentate con o senza soldi eccoli cesemo vedrò le sirene cioè vedrò le lanterne più cazzo agenti piano piano che ci siete quasi dove si trova? salga salga è una strada un po' impervia lo so stiamo andando piano anche perché abbiamo una doge vorrei evitare di farmi arrecare gravi sanzioni sul corpo penso che quella sia l'ultimo dei vostri problemi al momento venga 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 allora vedete il vostro amico davanti a voi fermi fermi scendete a piedi si lo vediamo ok avvicinatevi verso il vostro amico con le mani in alto se no l'ammazzo subito ci stiamo avvicinando ho fiducia nei suoi confronti non la tradisco no 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 basta così basta così fermi 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 oh perfetto così adesso sottotiro anche voi in teoria avrei tre ostaggi adesso però io sono una persona buona non sono ingordo che cosa vuole allora? allora io voglio il nostro obiettivo è portare sano e salvo il nostro collega a casa perfetto allora guardi se mi da 600.000 dollari sul conto il vostro amico lo potete portare via sano e salvo altrimenti gli pianto una pallottola in testa si rende conto che sono molti soldi vabbè ma una vita non c'ha valore no mi scusi poi è un agente soprattutto vale doppio per me è così però per il dipartimento devo vedere se me li accettano eh si ho capito ma è un agente vale doppio prova a comunicare con il dipartimento scusi eh vuole mettere la vita di un agente con quella di un normale cittadino ma guardi di fronte alla legge da quanto mi ricordo sono tutti uguali però dopo dipende dal dipartimento eh ma la realtà non è questa agente lei lo sa benissimo non ne ho idea comunque nel caso il dipartimento mi dia l'ok per il versamento a nome di chi? eh guardi il nome logicamente le do il mio nome fittizio va bene a lei le basta il numero di conto proviamo allora l'ho in testa Giancarlo Pignatta ok il numero di conto è 25 ok un attimo comunico con la centrale stiamo comunicando con il dipartimento affinché ci consenta questo trasferimento e che dicono? un attimo un attimo sta bene coi capelli bianchi lo sa? eeeh non si muove ok il commissariato ci ha dato l'ok dovrebbero arrivarle a breve ok perfetto quando ce l'ho sul conto mi conferma l'identificativo bancario 25? 25 ok ok affermativo dovrebbero essere arrivati il commissariato l'hai messo aspetti perfetto perfetto tutto ok? posso fidare che una vita umana per lei vale? sì certamente allora intanto facciamo una cosa intanto giratevi voi due verso guardate verso giù oh guardate i belli vigneti eh aspettate non vi muovete non ci muoviamo non vogliamo rischiare la vita di nessuno ok contate fino a 10 poi ve ne potete pure andare anche al vostro amico ben andato 1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 8 8 9 10 10 collegherci signori non pensavo sicuriamo andiamo via ragazzi prima di rischiare altro andiamo ma non vedo niente ragazzi qualcuno mi può prendere che non vedo niente e ancora l'hanno lasciato lì l'avrei voluto ammazzare perchè mi ha visto in faccia questo potrebbe essere un problema però non me la so sentire di rischiamarla così l'ho salito? OB UNGEB LOC ANGEL THIE D UNGEB UN. UNGEB 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 Grazie a tutti.